Sera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Dopo oltre otto mesi finalmente è arrivato l'esito dell'autopsia sul corpo di Elisa Amato, la giovane pratese uccisa dall'ex fidanzato la notte del 26 maggio scorso. Secondo l'autopsia la ragazza è stata ammazzata a Prato e non a San Mignato dove è stato trovato il cadavere e sarebbe stata picchiata prima di essere uccisa con tre colpi di pistola. La notizia arriva proprio nel giorno in cui la regione nega l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche all'associazione, alla fondazione che il padre del ragazzo ha voluto intitolargli. Sentiamo nel dettaglio il servizio. Elisa Amato è stata uccisa sotto la sua abitazione a Galciana da tre colpi di pistola che l'hanno colpita all'avambraccio destro, al torace e al fegato. Era seduta a lato guida sulla sua auto mentre il suo assassino, il suo ex Federico Zini, si trovava sul lato passeggero. Prima di sparare Federico l'ha presa a pugni per annientare la resistenza che la giovane gli stava opponendo. È quanto afferma l'esito dell'autopsia effettuata sul corpo della trentenne pratese uccisa dall'ex che poi si è tolto la vita. La notte del 26 maggio scorso, entrambi ritrovati cadavere nel parcheggio del campo sportivo di San Mignato, città nella quale il giovane viveva con i genitori e con il fratello. Dopo oltre otto mesi finalmente è stato depositato il risponso dell'esame autoptico, atteso soprattutto per far chiarezza sul luogo dove la giovane è stata uccisa e di conseguenza sulla procura competente che quindi è Prato. Ora l'inchiesta può chiudersi e la famiglia di Elisa avere le risposte che cercava da quel terribile giorno. La temperatura del corpo di Elisa indica nelle prime ore del mattino il momento della morte compatibile con gli spari sentiti nella zona di Galciana da alcuni testimoni. La pistola ritrovata nell'auto e regolarmente detenuta da Zini che aveva ottenuto un porto d'armi per uso sportivo ha sparato tre colpi che hanno colpito la ragazza sul lato destro del busto, uno all'avambraccio, uno al fegato e quello mortale al torace che ha intercettato polmone destro, cuore e anche polmone sinistro. La giovane ha lottato per difendersi dalla furia del suo ex. I segni sulla guancia destra e la rottura dei due incisivi sono la prova che la ragazza è stata presa a pugni durante la collottazione. L'esito dell'autopsia arriva proprio nel giorno in cui la regione ha negato l'iscrizione della fondazione intitolata Federico Zini nel registro regionale delle persone giuridiche. Contro la onlus voluta dal padre dell'assassino di Elisa c'era stata una vera e propria levata di scudi da parte dei consigli comunali del Pratese e dello stesso consiglio regionale che recentemente ha votato all'unanimità il suo no alla fondazione Zini. La motivazione è semplice, non si può intitolare una fondazione a chi ha commesso un femminicidio. Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita, impiccato con una corda al muletto dell'azienda di cui era dipendente nel comune di Montemurlo. La tragica scoperta è stata fatta stamani all'apertura. Da ieri sera non si avevano più notizie dell'uomo che non era rientrato a casa all'ora consueta e non rispondeva al telefono. La chiamata ai numeri d'emergenza è stata immediata ma per il 42enne, padre di tre bambini, non c'è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri che hanno avvisato il magistrato di turno, il sostituto procuratore Lorenzo Boscagli. Non sarà effettuata l'autopsia. L'operaio da tempo depresso aveva le chiavi della ditta e ha scelto quel luogo per togliersi la vita. Parliamo ora di terza corsia della 11 perché è incompatibile con la presenza del campo nomadi in via Manzoni e per questo il comune dovrà sgomberare l'area. Sentiamo i dettagli nel servizio. È in arrivo l'ordinanza di sgombero per le 26 persone che occupano il campo nomadi di via Manzoni. L'area infatti sarà presto spazzata via dalla terza corsia della 11 e di conseguenza le otto famiglie che vi abitano da circa 30 anni devono cercare una nuova collocazione. La società autostrade per l'Italia ha già provveduto all'esproprio di pubblica utilità così come per tutte le altre proprietà interessate all'allargamento della Firenze Mare e al relativo cantiere. Il campo nomadi non fa eccezione e il comune deve procedere a liberare l'area da roulotte e altre case mobili entro il 30 giugno prossimo. Si tratta di un insediamento spontaneo nato negli anni 90 mai contestato dalle amministrazioni comunali che si sono alternate alla guida del comune. Unico fatto di rilevanza lo spostamento parziale di pochi metri effettuato un paio d'anni fa per allontanarsi dai tubi del gasdotto che corrono proprio sotto quest'area per l'incolumità degli occupanti. Che fine faranno ora le otto famiglie sinti che vivono in quell'area? Il vice sindaco Simone Faggi mette subito le mani avanti sulla creazione di un nuovo campo nomadi. Non c'è nessuna intenzione di replicare il campo altrove, spiega Faggi. È finita la prospettiva paternalista in cui arriva il comune e pensa a tutto. Abbiamo incontrato le famiglie di via Manzoni più volte e abbiamo spiegato loro che l'ipotesi di creare un'altra area di sosta non esiste, né saranno allargati i tre campi già esistenti, devono uscire in autonomia. Una possibilità potrebbe essere quella di spostarsi in Viale Marconi dove il posto non manca, ma i problemi di convivenza e di contesto rendono questa soluzione poco praticabile. Per festeggiare nel migliore dei modi il capodanno cinese aveva deciso di offrire un extra ai clienti del suo locale, ma a rovinargli i piani è stata la polizia che verso le 23.15 di ieri sera ha controllato con alcune pattuglie un locale di via dell'artigianato frequentato da cinesi. All'ingresso dei poliziotti molti dei presenti hanno cercato di allontanarsi, qualcuno lasciando sul pavimento involucri contenenti piccoli quantitativi di marijuana e una bustina con 4,5 grammi di chetamina. Gli agenti si sono accorti del nervosismo del gestore, un cinese di 41 anni, e lo hanno scoperto mentre cercava di nascondere un pacchetto di sigarette con dentro quasi 15 grammi di chetamina destinata ad essere spacciata tra gli avventori del locale. A quel punto è scattato l'arresto per l'uomo, al quale sono stati sequestrati anche 305 euro in contanti. E prima ha rubato un portafoglio con dentro 400 euro a un cinese che si trovava in un bar di via Fiorentina, poi è corso in questura per autodenunciarsi del furto, affidando agli incredoli poliziotti la refurtiva senza aver toccato nemmeno un euro. È successo nella serata di ieri, protagonista un marocchino di 31 anni, l'uomo evidentemente ha problemi di squilibrio psichico, come poi confermato durante la sua permanenza negli uffici della questura, dove è stato trattenuto vista la sua irregolarità nella permanenza in Italia. Intanto i poliziotti, grazie al permesso di soggiorno trovato all'interno del portafoglio, hanno contattato il legittimo proprietario che è potuto rientrare in possesso dei suoi beni. Per il marocchino è invece scattata la denuncia per furto con destrezza. Oggi è la giornata per la sensibilizzazione nelle scuole contro il cyberbullismo e l'adescamento online. A Prato ci sono state sei denunce. Sentiamo Alessandra Grati. In quattro anni sei casi di molestie e di cyberbullismo denunciati alla polizia postale. A chiedere aiuto all'equipe dello sportello Oso sono ragazzi fra i 9 e i 12 anni, che hanno avvertito il disagio e scelto di parlare con gli esperti. Attraverso giochi online, attraverso i social network, quindi anche Whatsapp, Facebook e altri giochi online molto famosi e di moda fra i ragazzi di oggi. I casi di cyberbullismo e l'adescamento online, che abbiamo trattato congiuntamente con le famiglie per sostenere psicologicamente i ragazzi appunto in quelle situazioni di vulnerabilità psicologica. Dal 2015 Oso Prato ha incontrato oltre 4.000 studenti delle scuole dell'obbligo per informarli sui pericoli della rete. Ma spesso il problema sono i genitori. Che non sanno usare i media, li usano in maniera scorretta, danno un esempio assolutamente negativo ai ragazzi di cosa si mette ad esempio su Facebook. E questo poi rende molto difficile il nostro lavoro, perché poi noi gli spieghiamo delle cose, il ragazzo apre Facebook e vede magari una foto della mamma in certe pose o piuttosto che geolocalizzate dove si vede la nostra posizione, eccetera. Se lo fa la mamma... In occasione della giornata mondiale per la sicurezza online, alla scuola Santa Gonda è stato organizzato un flash mob, a cui hanno partecipato insegnanti, genitori e alunni. Al convitto Cicognini invece, la polizia postale di Firenze, ha organizzato un incontro con gli studenti per presentare una sorta di decalogo del navigatore sicuro. Oltre ai ragazzi, vanno tutelati anche gli adulti. Il cittadino che cerca di mettere su siti di e-commerce i propri prodotti viene in qualche modo raggirato e convinto a cedere lui dei soldi, a fare lui dei bonifici affinché la trattativa poi vada a buon fine. La Polizia Municipale di Prato questa mattina ha scoperto un vero e proprio negozio di parrucchiera all'interno di un'abitazione in via Marini a gestire l'attività abusiva a un cinese di 43 anni. Gli agenti hanno trovato all'interno di un vano dell'appartamento, al secondo piano dello stabile, un salone allestito senza alcuna autorizzazione, con seggio, le specchie, a muro, divani, lavatesta, con poltrone e macchinari elettrici per bigodini. Sono stati contestate violazioni amministrative per un totale di oltre 2.600 euro. Tutte le attrezzature utilizzate sono state sequestrate. Scuola è al via l'ottava edizione di Energicamente, concorso che fino a oggi ha già coinvolto 17.000 studenti italiani e ben 800 istituti. Sentiamo Chiara Valentini. Estra, grazie al suo impegno per le energie rinnovabili, ha permesso nel 2017 di risparmiare l'immissione in atmosfera di 17.000 tonnellate di gas serra. Un'attenzione all'ambiente che ha in vari progetti, tra cui Energicamente, giunto alla sua ottava edizione, un progetto per le scuole. Il progetto nasce da sempre, fin dalla prima edizione, in collaborazione con Lega Ambiente. I contenuti sono sempre collegati all'energia, Estra lavora nel mondo dell'energia, ma è molto sensibile anche al risparmio. Quindi il tema di Energicamente è quello delle rinnovabili, della tecnologia nuova nel mondo dell'energia, quindi l'internet delle cose, l'efficienza energetica, le smart city, la riduzione dei consumi, anche nozioni scientifiche sul mondo dell'energia, che gli insegnanti gradiscono molto, naturalmente. È un progetto che dall'anno scorso è totalmente digitale, quindi ha permesso una diffusione nazionale, tanto che oggi contiamo, già oggi, 800 classi in tutta Italia già iscritte al progetto Energicamente, di cui 277 in Toscana. Si rivolge a tutte le classi di tutti gli ordini, quindi dalle primarie alle medie di primo e di secondo grado. Alternanza scuola-lavoro per i ragazzi più grandi, un progetto didattico per le elementari e per le medie dedicato a cinque temi importanti, sui quali i ragazzi si cimentano e costruiscono la loro conoscenza per poi partecipare a un concorso che gli permetterà di progettare qualcosa in questi campi che hanno studiato insieme all'insegnante e magari vincere un Estra Day, che è un giorno dedicato all'energia nella propria scuola. C'è poi una novità quest'anno. Estra Kitchen è un'idea che abbiamo avuto pensando al mondo dell'alimentazione, nel senso di evitare gli sprechi, ma non solo, pensando all'energia, come riusciamo a cucinare in maniera più sostenibile? Quindi c'è questo mondo di oltre 50 energie sostenibili alle quali le famiglie possono ispirarsi per poi partecipare a un concorso e ideare la loro ricetta sostenibile. Bene, è tutto. Notizie di Prato Tg si ferma qui. Ci rivediamo domani alla stessa ora. Buona serata.